Dunque, le caratteristiche della montagna, dicevamo, e la sua collocazione sono quelle che ne fanno diventare poi un mito. La montagna dell'Aiger si trova sopra alla cittadina di Grindelwald. Percorrendo le strade della cittadina, bellissima tra l'altro, come potete vedere in questa immagine, si sentono parlare tutte le lingue del mondo, ma veramente tutte, pochissimo tedesco rispetto a tutte le altre. Pensate che gran parte dei menu sono tradotti in diverse lingue. Non manca mai il giapponese tra queste lingue e tra l'altro, come potete vedere da questa immagine, esiste anche un ufficio informazioni dedicato, esattamente per i giapponesi. Poi la possibilità che tutto questo popolo, che è qui sotto nel paese, che guardi la montagna, trasmigri ai oltre 2000 metri della Kleinscheid, dove due hotel, che vedete nell'immagine, permettono sostanzialmente di vedere la montagna e sono state di fatto la base operativa di gran parte dei media che hanno seguito nel corso degli anni le varie salite sull'Aiger. Proprio dalla Kleinscheid, prima di poter prendere il trenino che fa questo percorso che vedete nell'immagine e che porta su nella stazione più alta ferroviaria delle Alpi, dicevo proprio dalla Kleinscheid, fuori dagli alberghi, ci sono le posizioni con i cannocchiali puntati sulla parete e addirittura tempo fa vi venivano messi cartelli con alpinisti in parete, si potevano avere informazioni dettagliate su chi era, cosa stavano facendo, a che punto erano. Questi alberghi sono stati la base operativa di tantissimi giornalisti che si sono succeduti nelle diverse epoche, ci sono stati momenti nei quali addirittura si arrivava ad avere cento giornalisti stanziati negli hotel che stavano seguendo le attività in montagna. È ovvio, è evidente che questa potenzialità ha fatto esplodere tutto quello che accadeva sull'Aiger in tutti i modi, dai successi alle grandi tragedie ai numerosi morti, insomma su lì si è raccontato veramente tutto. Una stampa di carattere internazionale, vedremo poi più avanti i servizi sul Corriere della Sera, sulla Domenica del Corriere, su PariMatch, su tutte le più importanti testate internazionali e stiamo parlando di testate generaliste, non stiamo parlando delle testate specializzate che pur seguivano ovviamente gli accadimenti, ma oltre alla stampa c'è un altro elemento che ha reso ancora di più mitico e famosa l'Aiger alla sua parete nord ed è la cinematografia. Ma non sto parlando di una cinematografia di montagna, no, sto parlando di una cinematografia generale che già nel 1906 vedeva il suo primo filmato, poi nel 1911 addirittura una casa di produzione italiana. La società Anonima Ambrosio, che produceva una serie dedicata al comico Rubinit, fa due puntate lì sotto, nelle zone di Grindelwald, sotto la parete nord dell'Aiger. Poi ci sono altri filmati ancora nel 20, nel 25, nel 26. Via via nel tempo sono naturalmente cinema e film che vengono fatti per le sale del pubblico generalista e questa è la grande differenza che porta la ribalta a questa parete e viene consacrato sicuramente, quello lo fa diventare il salto in assoluto di fama internazionale di questa parete, è il 1975 quando, e lo vediamo dalla Locandina, quando il buon Clint Eastwood realizza, scrive, dirige, interpreta e produce Assassinio sull'Aiger, un giallo ambientato sulla parete nord dell'Aiger che lo stesso Clint Eastwood dice di aver girato senza assolutamente utilizzare controfigure. In verità, se noi andiamo a guardare nel cast ci sono signori di alpinisti, ma prendiamo pure per buono questo, certamente questo filmato del 1975 dà una fama internazionale, ma addirittura nel 1999 la televisione della Svizzera realizza una diretta della salita sull'Aiger con una squadra eccezionale, con telecamere particolari addosso agli alpinisti, postazioni fisse, una produzione gigantesca che gli permette di fare una diretta addirittura della salita sull'Aiger. Nel 2003 due grandissimi alpinisti Stefan Siegrist e Michel Pitelka si vestono come l'epoca della prima salita degli anni 30, prendono le stesse attrezzature e salgono la parete realizzando un film fantastico con loro perfettamente equipaggiati ed attrezzati in epoca e con tutte le troupe televisive che li seguono e che realizzano questo film. Per arrivare più recentemente vicino a noi dove nel 2008 viene prodotto North Face, vediamo una immagine del film e vediamo anche la locandina. North Face, un film bellissimo che arriva nelle sale, girato in gran parte in parete e che riproduce uno degli avvenimenti storici più eclatanti, quello della tragedia di Tony Kurz e Intersticer, di cui parleremo più avanti. Ebbene, questi riflettori puntati su questa parete di carattere generalista per chiunque internazionale sono quelli che hanno fatto salire il mito dell'Aiger ancora di più e lo hanno reso popolare in tutto il mondo. E la gente ha imparato a conoscere non solo l'Aiger ma addirittura anche la nomenclatura dell'Aiger. Per nomenclatura intendiamo tutti i punti chiave che sull'Aiger ormai chiarano la leggenda. E quali sono questi punti chiave? Beh, questi punti chiave, questi punti famosi, sono quelli che vi racconterò nella prossima puntata.